Oggi è successa una cosa gravissima. Io penso che sia una delle cose più brutte che è successo da quando c'è l'emergenza del coronavirus. A Milano, nella Pacifica Milano, baristi e ristoratori si sono riuniti in maniera molto democratica all'arco della pace. Hanno fatto una manifestazione, diciamo, dei tempi del coronavirus, ai tempi dell'epidemia. Cioè hanno protestato contro il fatto che in questo momento loro sono completamente a terra, zero fatturato, migliaia di regole che gli renderanno impossibile la riapertura e quei pochi che potranno riaprire non sanno quando riaprono. Ebbene, sono stati multati. Questo è il paese in cui si multano baristi e ristoratori nel centro di Milano che in maniera veramente garbata, in maniera istituzionale, direi, manifestano, ma non si multano quelli che vanno a manifestare per il 25 aprile. Perché il 25 aprile in un paese comunista si può celebrare se c'è Bella Ciao e la bandiera rossa. Ma non si può celebrare il fatto che stanno morendo di fame baristi e ristoratori. Il giorno in cui Conte capisce di aver sbagliato e dice che alcune regioni potranno aprire bar e ristoranti il 18 in anticipo. Ma la manifestazione dei baristi non è legittima. Bisognerebbe chiedere scusa ai baristi. Non gli si mette una multa. Io vorrei che per un attimo, un solo attimo della loro vita, quelli che ci comandano e che ci guidano sapessero che cosa vuol dire gestire un bar. Io non lo so. Io non lo so. Ho visto la settimana scorsa a Roma due ragazzi, lei incinta, le mancano due mesi, che con una dignità straordinaria a Roma avevano riaperto il loro bar per fare l'asporto. E piangevano, non piangevano perché avevano una dignità troppo forza per le bollette che hanno pagato, per la luce che hanno pagato, per l'affitto che hanno pagato, per il nuovo packaging. Toc toc! Sapete, cari amici, che avete multato baristi e ristoratori? Che cosa vuol dire l'aumento del costo del packaging per questi signori? Con la plastica che voi avevate tassato. Io penso che i baristi e i ristoratori che oggi sono stati tassati un'altra volta attraverso una multa allucinante a Milano siano l'inizio della fine di quella città che pensa a fare a Corso Venezia e a Corso Buenos Aires le piste ciclabili e non capisce che una città senza bar, come la Vienna, senza caffè, è una città morta. Chi multa un barista e un ristoratore perché va in piazza è un dittatore delle leggi, delle burocrazie, del buonsenso e anche della libertà di un paese civile come il nostro che ci ha chiuso in casa, che ci ha tolto le libertà e che spiega a 2,5 milioni di persone di esercenti commerciali oggi che il loro futuro è pari a zero. E se si permettono di parlare in maniera democratica e civile, non con le urla che sto facendo io, ma in maniera normale e civile, si beccano la multa. Dovevano cantare bella ciao, fare come il sindaco Sala, affacciarsi al balcone con Saturnino, avere un rasta fantastico vincitore di Sanremo che celebrava una Milano che riprende, senza bar e senza ristoranti. Adelante con giuizio, direbbe qualcuno. Incredibile.